salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ragazzi tentiamo un'impresa con il drone long range il gprc crocodile 7 tentiamo di raggiungere la cima del corno birone che sarebbe quella montagna la in alto la sopra c'è una croce sono 1116 metri quindi è un bel dislivello da raggiungere adesso ci sono dei ragazzi che stanno facendo parapendio aspettiamo che si spostano e una volta che se ne sono andati possiamo tentare l'impresa la giornata è pazzesca sereno sole aria praticamente niente infatti guardate qua tutti i dati di forecast è proprio la giornata ideale per fare una cosa del genere quindi ragazzi adesso non perdiamo altro tempo decolliamo qua ad annone per raggiungere corno birone 1116 metri con il gprc crocodile 7 decolliamo aria aria Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.